e quindi sono costretta insomma in qualche modo a non poter partecipare anche al proseguo del seminario quello che mi premeva dirvi è essenzialmente due cose voi avete seguito, io vi ringrazio perché Carti Regola lo scorso anno ha seguito attentamente anche le vicende del decreto semplificazioni dello scorso anno adesso ne abbiamo un altro di decreto semplificazione e soprattutto la vicenda di come si interveniva nell'articolo 10 con le semplificazioni in materia urbanistica e in materia di edilizia e soprattutto oggi diciamo col tema di moda che è la rigenerazione urbana e noi siamo intervenuti all'epoca diciamo quindi inizia a fine agosto dello scorso anno perché ovviamente il testo così come era stato approvato nel Consiglio dei Ministri lo riteneramo diciamo non abbastanza pericoloso soprattutto per i centri storici e io vi dico però poi con molta chiarezza che la spinta, io sono di Roma quindi conosco diciamo le vicende romane dell'urbanistica romana e quindi la spinta forte anche nella presentazione degli emendamenti con la finalità precisa diciamo di tutelare i centri storici e soprattutto i tessuti pregiati insomma che non sono soltanto quelli all'interno delle zone diciamo che nei piani regolatori vengono considerate appunto le zone ai centri o i delimitati come centri storici nasce proprio dalle vicende romane, dalle vicende del pericolo insomma delle demolizioni, abbiamo avuto l'episodio del famoso villino in qualche mese prima nel quartiere Coppedè ma di altri in forte pericolo per le questioni che sono strettamente legate al fatto che diciamo che proprio quei tessuti finito cento e novecento e anche Liberty nella nostra città non sono adeguatamente tutelati in più l'altra motivazione di fondo per la presentazione di questo emendamento nasceva dal fatto, da una valutazione anche diciamo di quello che sta accadendo un po' nelle città e in Roma questo è particolarmente accentuato perché è una città che sulla rendita insomma ha fatto diciamo è stato uno degli elementi no di di economici diciamo della della città stessa insomma e anche politici perché spesso è tutto intorno all'urbanistica che a Roma è sempre ruotato e ora qual è il punto? È evidente che la spinta di cui tutti oggi parlano della rigenerazione urbana non avviene diciamo là dove sarebbe assolutamente necessario cioè nei quartieri periferici, semiperiferici quindi un processo di rigenerazione per portare qualità per fare operazioni diciamo davvero di alleggerimento o per esempio anche di contenimento sul suolo una rigenerazione che non è solo architettonica ma anche sociale ma la rendita ancora una volta diciamo il profitto si dove vuole indirizzarsi e dove vuole concentrarsi nelle aree di pregio questo è il punto nelle aree più centrali nelle aree che che sono anche pregiate diciamo come quartiere dal punto di vista architettonico perché lì la demolizione e la ricostruzione qui arrivo al punto diventa un elemento di grande affare perché significa diciamo avere un premio di incubatura avere poterlo fare addirittura in concessione diretta senza neanche diciamo un piano complessivo che cosa produce produce diciamo una una possibilità diciamo di di avere una un profitto elevatissimo perché lì dove sono avvenute queste operazioni eh stiamo parlando diciamo anche di che si vede a diecimila euro a dodicimila euro a metro quadro questo è il livello e quindi è chiaro che ci si concentra lì cioè che questa volta il meccanismo appunto anche della rendita si concentra nelle aree più pregiate e quindi nelle aree centrali e semicentrali delle città. Se ti interrompo sei stata questo tuo emendamento è stato molto avversato sia diciamo dalle associazioni dei costruttori sia addirittura dalle gambiente e come lo spieghi? Sì e quindi e che cosa dice l'emendamento? No diciamolo perché altrimenti diventa così. Noi diciamo semplicemente che nelle zone omogenee A di cui al decreto ministero voi sapete perfettamente o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanisti nei centri nei nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolare di competenza comunale. Cioè non si può fare in concessione diretta. Questo invece che è invece quello che è accaduto direttamente col famoso villino diciamo eh in nel quartiere e altre operazioni che 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 si 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 prova a fare che si continua a fare. Eh perché sono stati avversati? Sono stati avversati per il motivo che dicevo prima. Oggi non interessa chi si riempie la bocca della rigenerazione urbana non gli interessa fare la rigenerazione nei quartieri per iperici. Gli interessa farla con la concessione diretta delle demolizioni e ricostruzione là dove vi è il maggior profitto perché questo è il punto e sono diciamo le zone più pregiate delle delle città. E le Gambiente ha avversato, ha fatto un comunicato insieme con Ance. Io francamente sono rimasta assolutamente stupefatta eh dicendo che altrimenti se ci sono troppi vincoli l'accio e l'accioli la rigenerazione non parte e non parte neanche diciamo la possibilità della riqualificazione energetica, dell'applicazione del del super eh ecobonus del centodieci per cento. Cosa assolutamente eh priva di fondamento perché nel in quell'emendamento che si occupava dei centri storici ma si occupava anche di molti altri aspetti sono previste una serie di di possibilità di semplificazione proprio per venire incontro al eh alle riqualificazioni energetiche proprio per venire incontro alla possibilità di poter usufruire fino in fondo del cento del centodieci eh per cento eh e sono previsti anche i casi dettagliati dei casi in cui con gli edifici costruiti prima del sessantasette magari non c'era il titolo e quindi c'è tutta la possibilità di poter intervenire quindi mh in realtà eh questo l'avversione che c'è stata soprattutto anche una parte del partito democratico insomma a storre qui ha votato contro insomma quindi il segretario regionale del PD proprio eh sono si sono concentrati perché torno a ripetere ahimè non interessa la rigenerazione urbana per fare veramente operazioni di riqualificazione molto importanti anche nelle zone che ne hanno bisogno che sono i quartieri periferici della città o fare operazioni appunto davvero per ridurre il consumo del suolo per fare invece operazioni in cui si apre perché vi è una concentrazione troppo forte di edificato insomma una serie di operazioni non interessa farle in periferia ma dove diciamo vi è la concentrazione di interessi più forti perché vorrei dire che in tutti questi anni ha consumato agro romano fatto ancora diciamo una serie di operazioni anche urbanistiche penso alla mia città quanto invenduto c'è ci sono tipo duecentomila appartamenti diciamo di invenduto per cui è evidente che non gli interessa diciamo fare quelle quell'operazione ma avere un guadagno un guadagno immediato ora però qual è il punto e qui cerco di essere sintetica noi da una parte eh hanno provato a rimettere mano quindi a stravolgere quell'articolo dieci del 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 uno otto otto tre insomma della conversione del decreto semplificazione con il nuovo semplificazione siamo riusciti a intervenire prima che il consiglio dei ministri lo varasse quindi quell'articolo sul sulla rigenerazione urbana che stravolgeva completamente e quindi permetteva di fare demolizione di ricostruzioni in nelle zone A e nei nei tessuti stonici ehm pregiati dal punto di vista storico architettonico e questa è stata eliminata però è alla camera e quindi adesso sono stati presentati gli emendamenti quindi a mio avviso dobbiamo ancora diciamo essere pronti a reagire per evitare che possano esserci appunto modifiche o stravolgimenti di quella di quella norma la rigenerazione urbana invece il testo è qui al senato eh relatori Mirabelli e la senatrice Nugnes vi è un testo unificato sulla rigenerazione urbana vi sono molti emendamenti anche che riguardano i centri storici anche molto importanti vi è un articolo specifico che voi conoscete credo quanto me che è l'articolo tredici proprio che si occupa diciamo specificatamente del eh dei centri storici della tutela dei beni dei beni culturali so ho visto anche diciamo una serie di emendamenti che sono stati presentati e e qui ovviamente al senato noi riusciremo diciamo a seguirlo meglio eh sono in corso una serie di incontri anche col ministro Giovannini per riuscire diciamo a portare a casa un testo diciamo fatto veramente bene questa volta sulla rigenerazione urbana e ovviamente questo però è un lavoro che stiamo che stiamo seguendo la mia preoccupazione così mi mi taccio davvero in queste ore però è che alla camera con le semplificazioni bis che sono alla camera si possa intervenire per modificare la norma che con tanta fatica eravamo riusciti a portare a casa diciamo lo scorso anno anche perché purtroppo il rischio è che quando poi le semplificazioni il decreto arriverà l'acqua al senato rischia di essere completamente chiuso e immodificabile quindi le preoccupazioni in questo momento sono forti soprattutto per gli interessi di cui eh sopra perché sono non quegli interessi continuano ad essere presenti e continuano sempre a utilizzare anche sempre la stessa questione che sarebbe per esempio il centodieci per cento. Una domanda ti volevo fare ma questo emendamento che ormai è stato approvato da più di un anno sai che ripercussioni ha avuto in particolare su Roma o su comunque sulle sulle eh diciamo attività e i permessi eccetera che veniva le autorizzazioni? Questo l'ha avuto in molti posti eh nel senso dove erano stati presentati i progetti l'ultimo per esempio eh ne ho avuto notizia proprio nel verso a Forlì per esempio erano stati eh presentato un progetto che prevedeva proprio l'intervento insomma su eh alcuni edifici del nei nei centri storici diciamo nel tessuto quello più pregiato eh che è stato bloccato dal dal eh da questa norma e avevano provato a rimetterlo in campo pensando che perché giravano le vecchie bozze del del nuovo decreto semplificazione in cui la norma diciamo veniva molto eh cambiata. A Roma che io sappia altre operazioni diciamo dalla eh da quando all'approvazione del della norma ad oggi eh non non sono state più fatte diciamo operazioni direttamente in ora quanto questa abbia comportato modifica il piano regolatore no ma qui è un'altra vicenda insomma quella quella delle norme urbanistiche del comune di Roma che speriamo diciamo ma queste ormai le nostre speranze vedremo insomma anche cosa ne verrà fuori dopo dopo le elezioni speriamo bene insomma. Grazie mille Loredana buon lavoro tienici al corrente di tutte queste cose che almeno nel nostro piccolo sul nostro sito e nei nostri contatti possiamo anche tenere sempre la luce accesa su questa ottima iniziativa che Carti in Regola ha sostenuto e continuerà a sostenere. Buona giornata e grazie. Grazie mi scuso ancora ma purtroppo è una giornata complicata oggi. Grazie. Allora noi ritorniamo al nostro inizio del webinar eh che per chi si è collegato ora ricordiamo è partito eh con un intervento che doveva essere un po' più conclusivo però eh faremo come appunto i film che poi con un flashback ricostruiscono tutto l'antefatto. E l'antefatto partiamo dal piano regolatore che adesso Maurizio Geusa eh dirà per diciamo i tratti salienti che servono anche per capire poi il discorso della tutela eh che di cui noi vogliamo parlare. Prego Maurizio. Bene. Buonasera. Inizio col condividere lo schermo se ci riusciamo. Sì. Ci condivide. Perfetto. Allora io comincio dal manifesto di Carti in Regola lì dove dice che le regole devono essere chiare cioè facilmente interpretabili da tutti cioè applicabili a prescindere dall'intervento dell'umano. Eh abbiamo sentito poco fa ripetere che il centro l'identificazione fra centro storico e mura aureliane ecco questa non è una affermazione corretta non corrisponde al vero. Non corrisponde al vero a meno che eh perché il perimetro delle mura aureliane è stato assunto come perimetro della prima circoscrizione della vecchia prima circoscrizione poi del primo municipio è stato assunto come perimetro dell'ex ufficio interventi centro storico ma non ha mai corrisposto esattamente con un con un centro storico di carattere urbanistico. Fino al sessantadue il centro storico urbanistico era la città che vedete campita in rosso edificata eh fino al milleottocento settanta quella che hanno trovato i piemontesi entrando a Roma. Il il riferimento di centro storico che di anzi di insediamento urbano di carattere storico che arriva nel sessantotto è invece di carattere più comincia ad essere di carattere più generale non fa riferimento a una sola epoca ma dice gli insediamenti che hanno particolare valore artistico di pregio ambientale architettonico e voglio ricordare che questo decreto già fissa dei paletti in quanto dice che nel caso di demolizione ricostruzione si può ricostruire al cinquanta per cento della densità media di zona e con un massimo di cinque metri cubi per metro quadrato. La questa definizione di ehm insediamento storico corrispondente all'unità d'Italia arriva fino al millenovecentonovantanove con la legge regionale. Anche la legge regionale prende come riferimento per definire l'insediamento storico quello che era le le città che al momento dell'unità d'Italia. È lo stella è esattamente la stessa definizione di insediamento storico che si ritrova pure nel ehm piano territoriale regionale nel piano paesaggistico. E ehm 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 cancelliamo chiudiamo siri perché se no si sente coinvolta. Allora eh nel mentre invece quando arriva il quando si comincia ad elaborare il piano regolatore del duemilatré duemila e otto si ragiona sul senso dici su un senso più ampio di insediamenti storicizzati. Negli anni duemila comincia a diventare storica tutta la città costruita fino alla seconda al agli anni quaranta cioè fino alla seconda guerra mondiale. Comincia a diventare storico tutto l'insediamento che c'è dentro e fuori le mura aureliane. Non a caso se pensate a via Sicilia percorrete via Sicilia vi trovate palazzine costruite negli anni sessanta oltre che la palazzina di Passarelli c'è anche la sede dell'istituto nazionale delle assicurazioni che è un che è se prendessimo come riferimento le mura queste sarebbero storiche mentre al di là delle mura un insediamento che è pregevole come quello intorno al mercato di piazza Alessandria l'ex birra Peroni quello non verrebbe considerato storico per cui cancelliamo per carità questa definizione di mura aureliane come identificativo del centro storico parliamo di invece insediamenti urbani storici che man mano col progredire della storia diventano man mano storici cioè l'esempio per esempio le automobili dopo 20 anni 20 25 anni vanno al registro delle auto storiche così anche l'architettura dopo 20 25 50 anni andrà un registro di architettura storica oggi non è storico l'insediamento di torsapienza nel piano dei diritti popolari di torsapienza come non è storico corviale ma sono opere d'architettura moderna che stanno sui libri che si studiano pertanto non c'è anche quelle sono meritevoli di tutela comunque torniamo al nostro piano regolatore piano regolatore adottato nel 2003 approvato poi nel 2008 identifica ben tutta questa che vedete qui rappresentata come città storica andiamo a nord questo è il tuffello andiamo a sud questo è l'euro se se percorriamo il perimetro vedete ponte milvio villa panfili gli insediamenti di garbatella la più antica e poi il limite della barriera ferroviaria questo insediamento anche allora aveva una densità di 126 ad abitanti ad ettaro ed era nonostante la presenza di uffici di quant'altro comunque era la la densità più alta e non a caso che ci piace poi perché ci piace la città densa ma questo è un altro discorso che faremo quando il sito unesco prende a riferimento le mura aureliane e e la regione rinvia a questo perimetro fa secco tutti questi altri nove centri minori che comunque avevano la loro dignità storica perché sono effettivamente insediamenti storici ma di lungo periodo cesano santa maria di galeria isola farnese questi vengono tutti fatti secchi ma hanno ben diritto di essere tutelati anche loro andiamo avanti rapidamente per non perdere tempo per non distrarci questa è la definizione dell'articolo 43 del ptpr che abbiamo già di cui abbiamo già parlato prima che fa riferimento anche questo all'insediamento del cartografia del catasto gregoriano 820 40 per cui al alla città dell'unità ecco alla città dei bersaglieri che cosa prevede il prg specificatamente innanzitutto il prg detta per la città storica per quei 5.000 e passa ettari di cui abbiamo parlato prima questi obiettivi che sono tutti di conservazione preservazione integrazione trasferimento delle sedi direzionali restauro tutela e valorizzazione manutenzione riqualificazione ovviamente è sostanzialmente la salvaguardia di tutti quei 5.000 ettari che abbiamo visto per fare questo perché bisogna operare all'interno di una città che è enorme non so se ci avete presente andate dal tuffello all'ero quanto tempo ci mettete ci mettete ecco allora tutto questa serie di tessuti di questa serie questo insediamento deve essere disciplinato caso per caso lotto per lotto perché solo così con quelle norme chiare si riesce a salvaguardare a determinare a controllare per fare questo sono stati individuati 10 tipi di tessuti 5 tipi di complessi speciali 6 tipi di spazi aperti 4 tipi di ambiti di valorizzazione in totale sono ben 24 diverse classificazioni distribuite in 19 articoli di norme attuative tenete presente che il vecchio piano non arrivava neanche a 19 articoli questi sono i tessuti se io adesso mi metto a leggere uno per uno e 24 è scaduto il tempo e non siamo arrivati in fondo comunque proprio per grossi salti sono dal t1 al t8 vanno per ordine di tempo il t1 ovviamente sono più antichi il t8 tessuti di espansione novecentesca è villaggio olimpico pensate che il villaggio olimpico possa essere non salvaguardato come il garbatella o come i villini di coppedè pensate che sia un insediamento diverso forse anche questo merita una salvaguardia edifici e complessi speciali questa è la parte monumentale della città il centro archeologico le ville storiche le grandi attrezzature gli spazi aperti sono come dice il nome sostanzialmente le zone verdi una di queste zone verdi conformate dal costruito lo cito per cronaca per chi lo conosce per chi lo vorrebbe conoscere perché è un caso da approfondire è quello di via oms per esempio perché anche via oms è uno spazio della città storica e all'interno della città storica ci sono poi cosiddetti ambiti degradati uno per tutti borghetto flaminio che ve lo dico a fare borghetto flaminio è classificato ambito di minuti maurizio dovessi arrivare anche al tipo di operazione ecco penso che questa sia la ciccia manutenzione che cosa si può fare su tutti gli edifici si può fare il recupero cioè io proprietario ho diritto a mantenere il mio immobile e se voglio fare qualcosa in più beh attenzione buona tanti auguri e buona fortuna se vuoi fare qualche cosa in più innanzitutto devi andare a vedere la l'articolo 16 carta della qualità che è un alt'ulteriore suddivisione di individuazioni di altre sette categorie di immobili questo rinvia alla guida per la qualità degli interventi attenzione perché questo sono altre 111 pagine 111 in formato doppio sono 200 pagine di manuale d'uso questo è l'esempio della dell'individuazione e classificazione ecco il tessuto t5 quello che ci preoccupa tanto via vicino che si può fare via vicino ci sono ulteriori obiettivi non solo quelli che abbiamo visto prima ma c'è la conservazione dei caratteri peculiari la valorizzazione la riqualificazione la sostituzione ecco la demolizione dove nasce la demolizione la demolizione la paura di demolizione ricostruzione sostituzione degli edifici con tipologia edilizia incongrua ricollocazione e riconfigurazione dei corpi di fabbrica accessori per cui si può fare effettivamente qualcosa ma per andare nel senso di valorizzare e rafforzare il la tipologia l'impediamento adesso esco un attimo se ci riusciamo dalla modalità di condizione perché ho provato una bella poi ci ritorno dopo perché devo cambiare scusate che devo cambiare schermo il tempo però è un po finito eh guarda e allora se mi se devo chiudere chiudo così però guardate questo è troppo bello questo è il famoso quartiere Coppedè guardate la grado la grana di individuazione del singoli immobili del tessuto e guardate la stessa cosa come si applica su tutti e cinquemila ettari della città storica adesso proprio per essere rapidissimi perché c'è un'altra cosa uno stimolo che ci ha mandato invece Anna Maria tempo fa e che volevo farvi vedere perché questi sono i villini mantenimento 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 inutile che ripetiamo ma vi volevo far vedere ecco questa bella fotografia che ci ha mandato Anna Maria guardate questa è piazza Sant'Agostino questa questa è la foto di Anna e questa è piazza Sant'Agostino con me grazie vi ringrazio a presto grazie per l'apprezzamento della mia foto aspetta che è quella è una foto significativa guarda che c'è tanto da dire lì dentro ma occuperemo altra mezz'ora merita un altro web quella la riappropriazione dello spazio pubblico era un immagine di qualche giorno fa post lockdown ma poteva essere anche degli anni cinquanta allora invece adesso in realtà come ha detto giustamente Maurizio il piano regolatore affronta molte di queste tematiche ha fatto anche una notevole lavoro diciamo anche micro tuttavia non ci sono diciamo tutele nel senso che anche le linee guida come molti sanno o gli obiettivi o le indicazioni le raccomandazioni se non sono prescrittive se i pareri e le autorizzazioni non sono sono solo diciamo consultivi ma non prescrittivi diciamo che sono una una flebile tutela di qualunque cosa allora noi adesso sentiamo un intervento registrato di Daniele Iacovone che è stato uno di quelli che ha predisposto il piano territoriale paesaggistico nel 2008 quando è stato adottato anche in seguito l'ha continuato a seguire che però negli ultimi tempi ha collaborato con noi ci ha anche aiutato a presentare un emendamento per introdurre nella città storica il ecco che ci sono allora scusate il pasticcio che il mio disordine nel computer come nella vita allora ecco qua buonasera un saluto a tutti il compito che mi è stato assegnato è stato è quello di illustrare quali sono i livelli di tutela che investono il centro e la città storica di roma prima di entrare in questo in questa particolare specificità volevo richiamare alcuni eventi diciamo possiamo chiamarli l'evento principale che è alla base di della tutela del Lazio che è l'approvazione del piano paesaggistico che è avvenuta il 21 aprile di quest'anno dopo un iter travagliato che ha visto un contenzioso attivo tra ministero della cultura e regione Lazio che si è risolto a favore del ministero con una sentenza 240 di novembre 2020 nella quale la corte costituzionale ha diciamo accertato che la regione non ha effettuato una leale collaborazione nell'ambito della redazione del piano paesaggistico questa situazione ha portato ad una ricomposizione di delle dei rapporti fra stato e regione e si è addivenuti ad un accordo che ha consentito sia la sottoscrizione del appunto dell'accordo finale previsto dal codice dei beni culturali sia l'approvazione definitiva del piano paesaggistico quindi oggi la regione Lazio è dotata del piano investe tutto il territorio del Lazio tranne l'area dell'appia antica che è tutelata sempre con un piano paesaggistico approvato precedentemente comunque vigente quindi tutto il territorio del Lazio ha è sottoposto ad una tutela di carattere paesaggistico in relazione ai beni paesaggistici presenti il rapporto fra tutela dei dei centri storici e e territorio è stato sempre un elemento all'ordine del giorno elemento che nella regione Lazio si è stato diciamo in qualche modo un tentativo di in parte riuscito di estendere la tutela a tutti i centri storici questa operazione avvenuta e come come sapete come è noto ma non ha riguardato il principale comune capoluogo e capitale d'italia che è il centro storico di Roma per il quale il piano ha rinviato alla al piano di gestione dell'unesco la un'attività di come dire controllo anche se indiretto delle dello svolgimento del buon svolgimento delle attività di trasformazione all'interno all'interno di questa di quest'area ecco va detto che questo obiettivo che in parte va diciamo in qualche modo riconosciuto alla alla regione non è completo una carenza molto a un bonus importantissimo questo del vuoto del centro storico di Roma almeno nei primi termini paesaggistici qui va fatta una premessa prima di entrare nelle norme che le disposizioni di tutela che riguardano il paesaggio ma come sapete il patrimonio è costituito da due famiglie di beni beni culturali beni paesaggistici la famiglia dei beni paesaggistici stende diciamo la sua tutela tutela a al contesto e alle parti esteriori degli edifici ma non alle tipologie cioè alla struttura alla composizione interna delle della degli edifici che esistono nel centro storico questo può essere esercitato esclusivamente se l'edificio è interessato da un vincolo di relativo bene culturale cioè della parte seconda del codice ecco diciamo il l'obiettivo non centrato del piano paesaggistico è stato risolto attraverso il rinvio come accennavo al piano di gestione il piano di gestione unesco in prima istanza poi a seguito dell'accordo fatto col ministero e della relativa esito del tavolo tecnico intesa raggiunta nel 2015 questo problema è stato affrontato ma non è stato diciamo compiuta la integrazione delle tutele ricomprendendo anche il centro storico di roma cosa che era auspicabile qui sembra che comunque in ogni caso le amministrazioni che siedono al tavolo delle decisioni della tutela in questa direzione non vogliono operare ulteriori passaggi tant'è che nell'accordo finale si rinvia ad una protocollo di intesa tra ministero e beni culturali del comune di roma che è stato approvato nel che è stato diciamo sottoscritto fra queste due amministrazioni nel nel 2000 nel 2009 è chiaro che questo meccanismo non consente di introdurre elementi di prescrittivi all'interno della delle valutazioni ma presuppone questo accordo una diciamo un parere diciamo che che può avere esiti esiti prescrittivi da un punto di vista diciamo delle indicazioni in esso contenute ma allo stesso tempo diciamo costituisce un elemento che giuridicamente non è un autorizzazione impositiva da un punto di vista delle prescrizioni quindi questo questa disposizione discende anche da un parere che è stato reso dalla sovrintendenza e dal ministero in sede di approvazione del piano regolatore di roma che è avvenuta diciamo contestualmente all'adozione del piano paesistico subito dopo nel 2008 ed è disciplinato dall'articolo 24 delle norme tecniche del piano regolatore di roma in un comma 19 20 e 21 in cui si citano proprio questi commi in quanto recepiscono esattamente il parere espresso dalla sovrintendenza statale ai fini dell'approvazione del piano regolatore ora questo per dire che effettivamente nonostante gli sforzi in questa direzione pochi si vogliono muovere e c'è anche da dire che che la il sito unesco in quanto tale i siti unesco sono una esclusiva competenza dello stato in quanti rapporti con gli organismi internazionali li tiene li detiene li teme le strutture centrali del nostro del 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 nostro ordinamento e quindi in questo caso il ministero considerate semplicemente questo che sapete che i siti unesco nel territorio nazionale l'italia è quella che ne ha di più ci sono circa insomma più o meno 49 50 eccetera e di questi di quei in questi siti ben sono compresi ben 150 centri storici all'interno di questi siti siti unesco di cui una trentina di grandi città tipo napoli firenze roma eccetera 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 nessuno però si ha mai questo da tempo perché diciamo l'unesco agisce come tutela il patrimonio mondiale da parecchi anni ma il ministero non si è mai posto il problema di introdurre elementi che coordinano le tutela il patrimonio mondiale con le leggi interne del nostro stato in particolare agire in questa direzione quindi da questo punto di vista diciamo c'è una manifesta non volontà di muoversi in questa direzione e e questo ovviamente consente di introdurre dei meccanici di esporre diciamo le parti più sensibili della della città a diciamo interventi che in alcuni casi sono stravolgenti le strutture che esistono quindi questa questa diciamo disattenzione in relazione al rapporto fra tutela del patrimonio mondiale e beni e beni interni al territorio al territorio nazionale è lungamente irrisolta per non parlare poi delle parti che sono esterne alla città storica propriamente detta cioè mi riferisco alle aree di norma riconducibili ai cosiddetti centri storici quindi ai pomeri urbani interni ai pomeri urbani eccetera che nel caso del del piano regolatore di roma si estende in un'area molto più ampia più molto più ampia mi sembra siano circa 3.500 ettari rispetto ai 1.600 che sono inclusi nel centro storico mura aureliane e quindi con una volontà da parte del 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 piano di introdurre un concetto per certi versi innovativo e quello cioè di andare a comprendere in questa accezione di città storica quella parte di una parte molto più ampia del tessuto dei tessuti urbani storici a questo però non corrisponde una normativa adeguata perché i tessuti che sono all'interno della città storica quasi tutti anche quelli più delicati forse con gli medievali si salvano eccetera in tutti è consentita sia la ristrutturazione che la nuova edificazione in buona sostanza demolizione ricostruzione con nuova edificazione senza ampiamenti ma questo comunque comporta un incentivo a certo non va nella direzione di di tutela così come contenuta nello stesso nello stesso piano regolatore quindi diciamo in qualche modo in questa direzione era stata fatta anche dall'associazione carte regola un'osservazione proprio finalizzata che ancora può essere rilanciata perché credo che il piano paesaggistico adesso abbia scritto anche nell'accordo finale che hanno fatto debba comunque andare in pubblicazione con alcune disposizioni alcuni beni che non sono stati pubblicati a suo tempo e quindi anche in quella sede si può riproporre la riproposizione era quella di andare a interessare alcuni tessuti riconosciuti scientificamente perché diciamo derivanti da un'analisi sui tessuti urbani non sulle tipologie tendo a ribadire ma sui tessuti però riconoscibili come il t5 e il t7 che erano sostanzialmente lottizzazioni puntiformi le città giardino tutte le villini eccetera eccetera che ricomprendevano in forma ampia e strutturata scientificamente quelle parti della città che vanno e devono essere tutelate considerate che in queste due categorie non rientrano i grandi complessi pluri con una pluralità di unità immobiliari perché quelli ovviamente oggettivamente sono di difficile attività di trasformazione totale totale ecco ecco di questo insomma bisogna bisogna credo tener tener conto anche nelle nelle prossime strategie perché ripeto in questa direzione può essere riproposta la questa questa osservazione ho visto che c'è sta in corso la la proposta del legge sua rigenerazione urbana che anche questa legge si te in questa legge si tenta di riprendere in considerazione il centri storici ci sono alcuni emendamenti al riguardo e in particolare viene l'approccio è più culturale tipologico che è quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti quello che garantisce di più le tutele in questa in questa direzione noi devo dire noi perché io ho lavorato nel piano paesaggistico sono stato il coordinatore della della redazione della fino fino all'adozione fino al 2010 poi sono uscito dall'amministrazione l'obiettivo che noi avevamo avevamo inteso intraprendere in questa in questa tutela di stessa dei centri storici che che comprendeva nella proposta iniziale anche centro storico di roma come risulta nelle tavole anche anche b era quello che di andare a difendere quei complessi diciamo quelle forme urbane che hanno una loro interezza e quasi diciamo riconoscibili in maniera assoluta che però diciamo non sono oggetto della difesa si difende l'opera l'opera importante l'opera principale ma non si difende come dire anche il centro storico se lo prendiamo nel suo insieme come un passato senza nome quasi se vogliamo anonimo va bene però popolare perché dentro il centro storico esiste la storia di una comunità ed è in esso è rappresentata in tutti in tutti i suoi piccoli e grandi aspetti quindi questo credo che sia uno degli aspetti su cui poter rilanciare un'iniziativa che vada a sollecitare sia il livello centrale molto pigro da questo punto di vista per non dire quasi diciamo inconcludente e sulla regione non penso che ci si possa fare affidamento più di tanto viste gli esiti ecco io finisco qui spero che il mio contributo sia sia utile anche per un dibattito successivo eccoci qua definito il aspettate ecco l'intervento di daniele jacovone avremmo anche un intervento di visenta iannicelli che è stata protagonista invece del piano di gestione unesco c'è anche lei rilasciato un intervento che però metteremo online sul sito a disposizione fin da oggi stesso indicando il tema perché siamo piuttosto in ritardo e rischiamo di non riuscire a fare tutti gli interventi io farei personalmente un veloce riepilogo di tutto quello che è stato detto da daniele jacovone un po dalle vicissitudini saranno pochi minuti ma giusto anche per far capire come ha detto anche esplicitamente jacovone e si tratta di volontà politica c'è finora non c'è stata volontà politica né da parte del comune né da parte della regione né da parte del ministero dei beni culturali di prendere una posizione netta e chiara su come ritorna al discorso anche di maurizio geusa con chiara e certa delle tutele per il centro storico la città storica con questa sempre abbivalenza non chiarita anche nel nostro stesso modo di parlare allora io condivido una breve una presentazione allora condivido schermo ecco qua un secondo che sistema ecco allora l'abbiamo chiamato il gioco dell'oca del piano territoriale paesaggistico rispetto al centro storico naturalmente non vi leggerò tutte le slide se non potrei tutto il tempo successivo metteremo le presentazioni anche degli altri in download sul sito allora naturalmente questo è una frase famosa di antonio cederna che definisce l'importanza del paesaggio nella nostra vita e il la definizione del sito della regione razio di che cos'è il piano territoriale paesi paesaggistico paesistico ci sono le due edizioni regionale che uno strumento di pianificazione attraverso cui nel lazio la pubblica amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio indicando le relative azioni volte la conservazione valorizzazione ripristino e creazione di paesaggi e questo naturalmente vale per soprattutto per per le parti diciamo naturali agricole eccetera ma vale anche per il paesaggio urbano storico allora sarò breve leggete poi con calma le le diapositive nel 2007 viene adottato il piano territoriale paesaggistico che dovrà poi essere approvato definitivamente e naturalmente in questo caso viene lasciato fuori il centro storico i sediamenti storici della lista del patrimonio unesco che comprende appunto il centro storico delle dentro le mura aureliane come se questo piano di gestione del del dell'unesco potesse sostituire diciamo un ente che doveva dare autorizzazioni paesaggistiche valutare richieste eccetera nel 2013 2015 c'è una copianificazione tra ministero dei beni culturali e regione che continuano a ignorare il centro storico nel 2016 e durante il commissario tronca che non c'era più la giunta marino viene finalmente approvato questo piano di gestione e diciamo che lo stesso eh tronca eh o c'è lo stesso veramente la stessa commissione come sentiremo poi da visenta gli annicelli eh ritiene che il questo piano eh di gestione sia stato impropriamente investito di un ruolo di sorgente normativa questo nella relazione finale concludendo che risulta necessario eliminare tale rinvio integrando il ptpr con le specifiche disposizioni di tutela previste per l'insediamento urbano storico e le relative procedure quindi diciamo che già nel 2016 si sapeva questo eh che diciamo il piano di gestione non era assolutamente ehm eh sostitutivo non era uno strumento di tutela nel 2017 viene fatta eh la legge regionale della regionazione urbana che ha un articolo che che rimanda al fatto che gli edifici che sono siti in aree individuate come insediamenti urbani storici dal ptpr non possono eh diciamo eh essere eh sottoposte a una serie di interventi tipo anche la demolizione e ricostruzione peccato che appunto nel ptpr non sia compresa il centro storico la città storica dove si possono fare questi interventi infatti abbiamo il caso della questa è la famosa Villa Paolina che fortunatamente poi per un vincolo messo dal Ministero non è più stata abbattuta ma vediamo qua i due permessi di costruire uno dato ai sensi di un piano casa eh diciamo eh prorogato dall'amministrazione regionale di centro-sinistra dopo quella della della Polverini e a destra vediamo grazie alla rigenerazione urbana la cosa paradossale è che contemporaneamente viene anche avviato un tavolo per la salvaguardia del paesaggio urbano di cui fanno parte sopra intendenza eh assessorato l'urbanistica eh regione Lazio che si sforzano ci devono lavorare per individuare delle forme di tutela per questi villini che nel frattempo si è creato un grosso allarme sociale sulla possibilità che venissero eh demoliti e ricostruiti in zone molto appetibili immobilialmente. Addirittura c'era sul sito del comune questa eh questo lavoro che individuava come vedete tanti tessuti, tanti quartieri, tante zone. Intanto però diciamo con una schizofrenia totale da una parte si incontrano per mettere delle tutele su alcune zone, su alcuni isolati eh degni di 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 salvataggio eh paesaggistico ma dall'altra parte eh approva eh la giunta regionale il PTPR definitivo e eh in questo caso non rimanda più perché non si può più al piano di gestione dell'UNESCO ma rimanda a eh esclude il centro storico di Roma rimandando a specifiche prescrizioni di tutela da definirsi cioè rimanda in un futuro eh in eh in in certo. Nel duemiladiciannove il PTPR va poi al voto del consiglio, il nostro ammendamento come è stato detto non non viene approvato anzi eh appunto come già detto da Iacovone eh al posto del del diciamo viene anche inserito che ci si rimanda a un protocollo ciclato nel duemilanove che però si vede già dalla copertina sulla destra ha per per oggetto la definizione della collaborazione relativa all'acquisizione di un parere consultivo per gli interventi edilizi nella città storica cioè è sempre un gioco dell'oca cioè si ritorna sempre a dei pareri consultivi. La faccio breve dopo questa approvazione che non aveva tenuto conto di un lavoro fatto col Ministero dei Beni Culturali ricomincia questa collaborazione, questo dialogo per arrivare a un documento di condivisione ma sempre fuori il centro storico da qualunque discorso anche quando poi eh invece nel frattempo l'altro tavolo quello che doveva trovare i salvaguardare dei dei pezzi di città individuandoli eh pezzo per pezzo eh conclude un un primo capitolo del lavoro che un'area di poco isolati vicino a Corso Trieste. Allora poi c'è come è stato accennato un ricorso del MIBAC che poi viene vinto dalla Corte Costituzionale ma tutto questo prima non tocca il centro storico. Il ventuno aprile duemila e ventuno per la seconda volta il Consiglio regionale approva di nuovo il piano territoriale e paesaggistico senza che venga toccato il ancora una volta il il centro storico. Questo ritorniamo a noi e credo adesso controllo la scaletta che sia il l'intervento di eh Giancarlo Storto che parlerà eh dal punto di vista anche della legge della rigenerazione urbana eh del del approvata nel duemiladiciassette della regione. Giancarlo prego. Sì eh velocemente ricordo la vicenda del piano casa che è all'origine poi della legge regionale di cui prima si è fatto scelta. Ecco la vicenda del piano casa è una vicenda eh molto simile a quella del condono ed è una una strana storia una strana storia in quanto in quanto segna un un terribile eh caduta del della sulla qualità della pianificazione urbanistica ma non solo è una legislazione che finisce per ridurre la credibilità del degli strumenti e ma la stessa autonomia comunale che come sappiamo invece ha ehm tra le parti più qualificanti del proprio reggire proprio proprio quella del del governo del proprio territorio. Come nasce la questione rapidissimamente nel duemila nel duemilanove eh il governo Berlusconi eh veniva eh ipotizzato un nuovo un intervento organico per l'edilizia residenziale pubblica l'edilizia l'edilizia residenziale sociale più in generale eh e il governo di allora eh diciamo eh ipotizzò che prima di arrivare a erogare finanziamenti a fare un una programmazione a cui con queste finalità eh si dovesse sottoscrivere eh un'intesa con tutte le regioni. Quest'intesa prevedeva appunto la possibilità di eh aumentare eh nei 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 interventi eh diciamo minori mh la onometria fino al venti per cento e nel caso di munizione di costruzione l'aumento potrebbe essere addirittura del trentacinque per cento. Eh i soldi del governo Berlusconi per l'edilizia sociale poi non li messi non 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 li stanziò più ma le regioni tutte le regioni prese da un impeto di incredibile efficienza e disponibilità eh emanarono eh compiosamente leggi eh per dare attuazione a questa intesa firmata appunto nell'aprile eh duemila e nove. Non sto qui a eh diciamo a ragionare sulle singole risposte che le regioni hanno dato mh e che continuano ad andare a suon di ulteriori errori ulteriori provoche ma mi soffermo su quello che ha fatto la regione Lazio. La regione Lazio nel primo tempo attuò questa intesa eh formulando una una legge regionale molto restrittiva. Passò poi eh dal governo di centrosinistra che allora al governo di centrodestra eh il quale invece allargò le maglie eh fino a mh diciamo ampliare eh e distorcere la stessa strumentazione urbanistica. Quindi non interventi sulle eh degli sull'edificio sul singolo edificio in deroga ma interventi che sono espansi sulle modalità di redigere i piani urbanistici. Eh passato eh il governo Polverini e il centrosinistra mh mantenne eh questo tipo di impianto lo mantenne con successive prologhe eliminando soltanto le maggiori strutture. Si arriva diciamo come norma regime la eh la redazione la vigenza la l'approvazione della legge sulla rigenerazione urbana. Che cosa dice questa questa legge? Ma questa legge dice delle cose eh condivisibili in parte cioè quello che ehm il comune eh avrebbe dovuto redigere dei programmi di rigenerazione urbana e eh individuare anche ambiti di qualificazione eh e recupero edilizio. All'interno di questi era possibile appunto applicare le premialità di cui si è detto in precedenza. Eh tutto bene dunque no perché accanto a questi due articoli diciamo che mantenevano la capacità decisionale al all'amministrazione comunale la quale era lei che aspettava poi l'individuazione di questi perimetri dentro cui poi ammettere le ed ero che sulla base comunque di uno studio di tipo urbanistico ebbene questa questa legge prevede un ulteriore articolo articolo sei più volte nominato il quale invece dice che è sempre impossibile possibile quindi è sempre in termini molto penetori è possibile avere ottenere un incremento della volumetria o della superficie utile del venti per cento negli interventi di ristrutturazione e demolizione e ricostruzione. Qua eh va sottolineato vanno sottolineato un aspetto che che è sempre importante cioè che sì è vero diciamo nelle norme del piano regolatore che comunque consentono interventi di demolizione e ricostruzione o comunque di ristrutturazione di vizia in tessuti eh otto novecenteschi quindi tessuti che hanno una loro storicità eh consente questi interventi puntellandoli in qualche modo che vuol dire puntellando in qualche modo significa eh significa che ammettono ad esempio la ristrutturazione purché questa ristrutturazione non sia particolarmente diciamo eh distruttiva così come ammettono in alcuni casi la demolizione e ricostruzione. Se questo è vero è pur vero che il eh successivi successivi emendamenti al testo unico dell'edilizia consentono che venga eh equiparata la demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione edilizia. Cioè allora quando un piano regolatore prevede eh la ristrutturazione edilizia essendo subentrata questa modifica al testo unico dell'edilizia il 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 richiedente qualora il suo immobile ricade in quest'ambito quella di ristrutturazione edilizia può intervenire anche attraverso la demolizione e ricostruzione ma non solo appunto con l'articolo sei che prima citavo della legge di direzione urbana questo intervento sempre ha sempre ripeto perché in questo c'è 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 in questo avverbio c'è c'è un contenuto fortemente dirompente ha sempre la possibilità di eh ottenere un incremento appunto del venti per cento e qui mi ricollego al discorso che faceva la signoratrice De Petris cioè e siccome oggi eh gli interventi che sono di maggiore interessi per gli operatori non sono certamente quelli di di dare qualità alle alle periferie rispetto ai quali i processi di legislazione dovrebbero essere eh più che favoriti essere centrali come modalità di intervento siccome come diceva appunto la signoratrice l'interesse è nelle parti più eh pregiate nelle parti del della città storica dove la rendita ha valori infinitamente più elevati il mix di queste di queste normative ha fatto sì che oggi diventa possibile diventa possibile eh e demolire e ricostruire con premierità eh edilizia eh che eh diciamo che rientra appunto nei tessuti otto novecenteschi e e qui bisogna anche sottolineare che appunto avendo il piano regolatore eh individuati e questo può essere del tutto condivisibile i tessuti come diciamo riferimenti diciamo per ambiti storici successivi come riferimenti del come riferimenti a quale applicare una qualche una una la normativa che prima veniva richiamata ebbene eh in in questi tessuti certamente eh ci sono ci sono eh ambiti di minor valore ma anche e soprattutto ci sono eh edilizia e immobili eh di di certo pregio e di certa qualità che possono essere oggetto di interventi addirittura di demolizione e ricostruzione come peraltro è già successo successo a proposito di Viglini. Mi fermo qui. Non ci senti niente. Ecco ci sono cascata anch'io. Grazie Giancarlo passo la parola a Rita Paris presidente dell'associazione Bianchi Bandinelli ma è stata già direttrice del parco archeologico della Piantica e eh Bianchi Bandinelli aveva presentato anche una proposta di legge sui centri storici un paio d'anni fa e comunque continua a seguire tutta la vicenda anche dell'attuale testo della rigenerazione urbana in Parlamento a cui ha inviato degli ammendamenti prego Rita. E dunque nel molto in sintesi nel nel quadro eh di vuoto normativo come abbiamo sentito prima anche da Daniele Iacovone e in presenza di attacchi con demolizioni a cui si stava assistendo i villini storici eccetera e la Bianchi Bandinelli alla fine del duemila eh diciotto ha eh proposto questo disegno di legge secco radicale e anche forse provocatorio ma probabilmente eh diciamo una eh soluzione e questo disegno di legge che adesso sintetizzo eh è eh finito diciamo in unite parlamentare come ha accennato prima la senatrice De Petris e e mi ha un po' tranquillizzato diciamo il fatto che abbia detto che in commissione ambiente al senato so che vi sono circa duemila eh emendamenti noi ne abbiamo fatti tenendo ben presente ehm i contenuti del eh disegno eh di legge Bianchi Bandinelli quindi che diciamo per la prima volta estendeva il concetto di tutela dai singoli monumenti ai centri storici nel loro complesso. I centri storici, i nuclei e complessi dirizi sono dichiarati beni culturali di insieme soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui al codice dei beni culturali. Viene tradotta in termini normativi la cultura sulla città storica come monumento unitario nella complessità dei suoi valori. Ha questo disegno di legge che eh diciamo ha dato anche un eh confluito anche gli atti in un ebook hanno naturalmente partecipato Rezio De Lucia eh Giovanni Lo Savio, Giancarlo Storto eh Pierluigi Cervellati e molti altri eh esperti. Ehm il fulcro di innovazione diciamo di questo disegno di legge eh eh che lo Stato riconosce come questione nazionale la tutela dell'insediamento urbano storico e assume su di sé il compito di consolidarne e incrementarne la funzione residenziale anche utilizzando eh il patrimonio immobiliare pubblico dismesso. Ehm appunto nel percorso politico ehm ehm questo di segno di legge che ha avuto come primi firmatari una senatrice e un deputato riceve un numero e viene presentato insieme ad altri tra i quali quelli della eh rigenerazione urbana. Quindi ci siamo attivati anche con come associazione Bianchi Bandinelli e Italia Nostra sia a partecipare a un paio di audizioni e sia a presentare alcuni emendamenti che non sto adesso a citare perché sarebbe complesso e troppo eh specialistico. Però voglio soltanto ehm dire che eh sono state fatte soprattutto delle aggiunte nella carenza di quello che era il testo unificato per quanto riguarda la rigenerazione urbana. Aggiunte che in sintesi sono i centri storici e gli agglomerati di valore storico sono dichiarati beni culturali d'insieme. I centri storici e gli agglomerati di valore storico sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato con divieto di demolizione e ricostruzione e trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e luoghi aperti, la modificazione della trama avviaria storica e tutto eh diciamo quello che costituisce il tessuto urbanistico. Io non ehm mi dilungherei su eh sugli emendamenti perché eh e sono troppo specialistici diciamo eh continuo però a credere che una eh soluzione del genere eh c'è una diciamo prendere nel blocco diciamo tutta questa serie di indicazioni e di emendamenti possa essere l'unica soluzione perché personalmente non credo che ne usciremo ehm rispetto al rapporto regione piano territoriale paesistico e non parliamo assolutamente del del piano di gestione UNESCO. Siccome viene pochissimo tempo io lascerei la parola agli altri esperti e rimango a disposizione poi di carta in regola naturalmente per tutti. Grazie Rita. Ti inviterei poi anche a mandarci questi emendamenti che chi è interessato li potrà trovare sul nostro sito. Adesso velocissimamente deviamo un attimo dal discorso finora fatto perché riguardava aspetti urbanistici e e e diciamo vediamo un po' nell'insieme questo centro storico anche in termini di spazio pubblico e di abitanti. Cominciamo da Paolo Gelsomini che ci parlerà appunto del del di tutta una serie di regole che che di destinazioni soprattutto che possono condizionare presentemente anche la città della tutela del paesaggio e del e poi parleremo con Sara Gainsworth di quanto invece sia anche importante che sia eh una città storica abitata eh da gente che ci vive e che porta tutta l'umanità e e e la vita che che ci si aspetta eh in un centro storico e non solo un Luna Park dove eh vengono i turisti eh a consumare la città. Prego Paolo. Sì. Allora una rapida e sintetica esposizione eh sulle questioni non solo delle regole ma anche delle politiche di governo o di non governo eh delle attività commerciali e delle strutture ricettive extraalberghiere presenti nella città storica. Allora cominciamo eh con la slide numero uno eh la definizione di città storica non la sto a ripetere perché è stata ampiamente detta questa sera eh eh nella città storica eh ecco se possiamo andare nella slide per favore così inquadriamo e non sto a leggere tutto soltanto a commentare magari ecco. Sì scusa mi sono distratto un attimo. Eccomi qua. Quella successiva questa è un attimo. Ecco. Ecco. Benissimo. Dunque queste sono le destinazioni d'uso previste dal piano regolatore all'interno dei tessuti della città storica. Eh subito due tre commenti. Eh per quanto riguarda la funzione abitativa eh oltre la eh basilare funzione residenziale che va difesa perché è quella sotto attacco nei centri nel centro storico di Roma eh ci sono gli alloggi per uso turistico che sono equiparati a locazioni turistiche così come definite dal codice civile e quindi sfuggono ad ogni regolazione regionale per le attività extra alberghiere che hanno poco poche regole ma un po' ce l'hanno eh tanto per cominciare non sono attività residenziali ma sono eh nella lettera di eh attività turistico ricettive ehm ehm esclusive motel quindi eh tutta una serie serie di eh alloggi eh trasformati appunto in case vacanze ehm e e e locazioni turistiche alloggi per uso turistico eh di fatto eh non hanno una residenzialità radicata e quindi contribuiscono allo sradicamento eh della eh della delle persone degli abitanti eh nel centro storico abbiamo la necessità sia da parte del dell'offerta sia da parte della domanda di accedere a questo bene perché è un bene economico da parte della domanda e un bene diciamo rifugio che può molte volte eh eh incrementare il bilancio familiare o di un pensionato nel caso appunto dell'offerta sta di fatto che comunque va regolata e in questo momento per questo tipo di alloggi soprattutto questi quindi senza scomodare i bie bie ed altri non c'è assolutamente nessuna regola ehm un'altra considerazione eh nella tra gli abitativi ci sono le residenze per studenti gli studentati mentre invece gli ostelli per la gioventù stanno nelle turistico ricettive questo è molto importante nei progetti di rigenerazione perché nei famosi mix funzionali quando si parla del famoso 20% per funzioni residenziali non ci si può si si preferisce dare soltanto appartamenti di solito a costi molto elevati e remunerativi e non c'è spazio per residenze per studenti ma c'è spazio nella quota del turistico ricettivo per gli ostelli per la gioventù che hanno un'altra funzione sociale se noi pensiamo al contenuto dell'urbanistica anche come relazioni di esseri umani di e di persone ecco le residenze per studenti eh di solito non ci sono ma ci sono gli ostelli per la gioventù questo è quanto per quanto riguarda il secondo è un altro tema molto delicato perché il cambio di destinazione d'uso dalle funzioni abitative evidentemente non si può cambiare molto facilmente nei tessuti della città storica dalla funzione abitativa come si vede è ammesso solo per i piani seminterrati per i piani terre per i mezzanini però negli altri piani è ammesso al solo fine di consentire l'ampliamento delle destinazioni a strutture ricettive alberghiere però quando quando in pratica tutta l'unità edilizia è eh occupata al settante per cento già da un albergo quindi di solito non si dovrebbe dare il permesso di cambi di destinazioni d'uso eh per eh passare eh dal residenziale eh al al turistico ricettivo però come dicevo prima eh per quanto riguarda invece le eh locazioni turistiche eh che 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 gli alloggi per uso turistico sono delle abitazioni normali e io le affitto a chi mi pare per pochi giorni o per o per pochi mesi. Eh il tre ehm salta agli occhi la la mancanza di governo delle 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 strutture recettive alberghiere per tutto quello che abbiamo detto fino adesso abbiamo soltanto un regolamento regionale del duemiladiciassette ehm che però ripeto disciplina soltanto una parte di attività di ehm extra alberghiero. Alla fine abbiamo tre tipologie abbiamo l'alberghiero propriamente detto poi abbiamo l'extra alberghiero e poi abbiamo le le locazioni turistiche che ripeto stanno sono quelle eh diciamo che veramente ehm modificano la struttura sociale dei dei condomini e dei quartieri e praticamente non hanno nessun tipo di controllo o di governo. Si potrebbe ragionare sul tipo di governo che potrebbe essere incentrato ovviamente su processi di incentivazione e disincentivazione economica, fiscale e quant'altro ma questo qui eh al momento non mi pare che eh la discussione eh ci sia una discussione eh all'interno eh della politica e eh e delle istituzioni. Al punto quattro eh passiamo direttamente alle attività commerciali che consente il piano regolatore. Prima abbiamo visto tra le attività eh consentite nella città storica ovviamente c'erano le attività commerciali ma hanno una limitazione di superficie ehm e quindi nei tessuti edilizi di origine medioevale quindi dal T1 eh rinascimentale e moderna prima del 1870 ehm si possono aprire attività commerciali fino a duecentocinquanta metri quadrati badate bene duecentocinquanta metri quadrati di superficie di vendita ehm dove eh quindi non di servizio di ripostigli o di bagni soltanto di vendita. Eh sì eh qui lo dico adesso a voce eh sono eh permessi degli accorpamenti sia in orizzontale che in verticale eh fino ovviamente si pensa ad arrivare a quei famosi duecentocinquanta metri quadrati. L'esperienza però mi dice che siamo già arrivati al sei un momentino tanto ci siamo nei tempi Anna eh l'esperienza dice eh che eh questi accorpamenti sia in verticale che in orizzontale e eh in realtà eh vanno ben oltre eh ai duecentocinquanta metri quadrati consentiti per superficie commerciale e tutto il resto che dovrebbe essere delle ehm destinato ai servizi e ai ripostigli penso soltanto a un locale per mantenere eh la raccolta differenziata non residenziale che è sempre un problema gli istruvatori dicono sempre che non hanno spazio e buttano l'immondizia nei cassonetti dei residenti eh perché eh non hanno spazio perché fino all'ultimo centimetro quadrato è destinato a tavolini interni per non parlare di quelli esterni. Poi andando ancora avanti abbiamo ancora ehm le attività commerciali ehm questa volta ehm fino a duemilacinquecento metri quadrati cioè le medie strutture dopo duemilacinquecento metri quadrati sempre di superficie commerciale eh ci sono le grandi strutture questo è possibile nei tessuti edilizi di espansione novecentesca a fronti continue secondo il piano regolatore del trentuno e per le costruzioni dopo il sessanta ed oltre. In questo caso sono ammessi prima ne parlavamo interventi di ristrutturazione edilizia con aumento della superficie complessiva dei vari piani finalizzati al miglioramento della politica architettonica ma anche all'adeguamento funzionale degli edifici o parti di essi. Ecco queste parti a mio parere dovrebbero essere controllate molto di più e forse anche riviste. Andando ancora oltre ehm ehm vediamo un po' quali sono le regole attuali per le aperture di attività di somministrazione di cibi e bevande. Quindi cosa sono le attività di somministrazione? eh bar e ristoranti sostanzialmente. Sei a nove minuti. Prego? Sono a nove minuti? Benissimo. Sono del regolati dalla delibera trentacinque del duemila e dieci ehm in questi ambiti che potete leggere che non sto a rileggere eh la delibera vieta nuove aperture di bar e ristoranti all'interno di questi ambiti a meno che non siano trasferimenti di licenza da all'interno dello stesso ambito. Io da Celio non posso chiudere un ristorante e portarlo a trastedere. Se lo chiudo a Celio lo devo riaprire a Celio per intenderci. Andando avanti ancora velocemente ecco ehm fa addirittura ci sono cinquantacinque eh strade e piazze dove ehm eh l'apertura di bar e ristoranti eh sempre a saldo zero cioè ne chiudo una e ne apro un altro è consentita ma non ad interno dello stesso ambito ma addirittura all'interno della stessa piazza o della stessa strada. C'è un elenco di cinquantacinque strade e piazze che ovviamente ognuno si può andare a rivedere eh nella legge che abbiamo che abbiamo citato nelle trentacinque del delibera scusate non legge trentacinque duemiladieci e quindi qua con molta precisione c'è scritto quali sono i rioni salvaguardati. Andando ancora avanti il quadro numero nove eh le tipologie qua c'è un elenco di tipologie artigianali e commerciali consentite all'interno del perimetro della città storica attenzione all'infuori delle attività di somministrazione perché mentre le attività di somministrazione erano governate dalla delibera trentacinque queste sono governate dalla quarantasette e dall'ultima la quarantanove. Vorresti chiudere scusa Paolo. Sì del duemiladiciannove non le sto certamente a leggere però sono le tipologie artigianali consentite. Queste sono le attività tutelate ricordo soltanto che la tutela eh che è una cosa molto importante però viene viene meno quando ehm le il negozio che ehm che è stato chiuso ehm per abbandono da parte del proprietario per qualsiasi motivo rimane tale per tre anni e dopo tre anni la tutela degate e degate. Io ci posso aprire qualsiasi tipo di attività chiaramente previsto dalle norme di piano e dalle norme commerciali. Andando oltre per chiudere che cosa succede quando chiudono le attività tutelate abbiamo detto adesso appena adesso quindi non lo sto a ripetere le attività vietate ci sta tutto un elenco di attività vietatissime all'interno del perimetro della città storica l'ultima via positiva alle tredici e finiamo l'ultima eh le limitazioni al cambio di di destinazioni d'uso eh nella città storica. Ecco ricordiamoci questo è un principio è un limite alle liberalizzazioni. Il comune può limitare per motivi di salvaguardia di caratteri socio-economici culturali ambientali di particolari zone della città storica e della città consolidata anche i cambiamenti di destinazioni d'uso o l'insediamento di specifiche attività eccetera eh con lo stesso provvedimento il comune potrà individuare le destinazioni d'uso esistenti di cui incentivare la delocalizzazione o al contrario le destinazioni d'uso qualificanti da promuovere. Ecco questo tipo di politica eh io non me la ricordo. Ecco a posto così. Grazie. Bene grazie Paolo è stata veramente una sintesi molto eh interessante che dà veramente l'idea delle regole. Eh in realtà tutti abbiamo visto poi quali sono i problemi rispetto anche alla tutela della del centro storico della città storica scusate ehm che eh con il famoso caso del McDonald che doveva aprire al Pantone che aveva avuto voleva trasferire una licenza da una iogurteria di pochi metri quadrati. Passo ora la parola a Sara Gainsford siamo molto in ritardo vi chiedo di restare con noi per un altro po' anche perché dopo sarà che faremo anche il punto delle nostre richieste e proposte di carte in regola per la tutela della città storica. Allora passo la parola a Sara. Grazie Anna Maria proverò a essere brevissima e molto interessante gli interventi prima di me poi insomma ringrazio Paolo per aver eh già detto molte delle cose sul tema degli affitti brevi turistici di cui mi sono occupata su cui per cui non posso non tornare eh però ecco insomma in generale questo questa questione della turistificazione del centro storico degli affitti brevi ehm come dire un po' all'ultima frontiera no? Della di una trasformazione che è avvenuta eh al di fuori di qualsiasi piano abbiamo parlato no? Di piani e programmi di rigenerazione eccetera però ehm la turistificazione è avvenuta eh al di fuori di interventi edilizi quindi di modifiche formali no? Di autorizzazioni di cambio di destinazione d'uso eccetera e via dicendo tutto questo non c'è stato perché c'è stato semplicemente un cambio di appunto di destinazione d'uso di eh edifici senza modifiche formali eh secondo la logica che si citava prima eh a proposito del appunto della rigenerazione della maggiore remuneratività ehm e quindi appunto molte case adesso non sto a dire i dati insomma li conosciamo eh i rapporti no? Tra eh posti letto offerti su Airbnb residenti è drammatico alcuni rioni del centro di Roma sono stati completamente tra travolti perché insomma addirittura per esempio c'è io non le dico e tra Stevere e Squilino eccetera abbiamo eh ogni due residenti stabili abbiamo un posto letto su Airbnb quindi insomma questa diciamo è una questione eh proprio di che riguarda la qualità urbana secondo me è interessante ehm analizzare questo cioè non è una questione che riguarda soltanto eh la casa e l'abitare ehm e il tema della residenzialità è un è un è un tema che appunto interseca tantissime altre questioni c'è una questione fiscale la norma nazionale al momento fissa questo il limite tra eh l'affitto breve cosiddetto occasionale e quello invece imprenditoriale a quattro appartamenti che io direi insomma una vera e propria follia anche perché queste eh fino a quattro diciamo l'attività fino a quattro appartamenti è tassata con la cedolare al ventuno per cento vi dico solo che possiamo stimare che il guadagno medio a Roma eh di gestione di quattro appartamenti su Airbnb è di circa centomila euro l'anno eh questo insomma c'è una fonte c'è uno studio è fatto da sociometrica per l'ente bilaterale del turismo del Lazio che fa questa stima quindi questo guadagno è tassato al ventuno per cento quando invece l'aliquota sul reddito fino a quindicimila euro è al ventitré questo secondo me è è un chiaro indice del tema eh toccato più volte all'interno no di questo eh seminario ovvero quello della rendita cioè la rendita finisce per essere favorita rispetto invece al lavoro no? Quindi c'è questo tema qui c'è un enorme tema del sommerso abbiamo tredici milioni di presenze turistiche fantasma proprio perché gli affitti brevi eh non sono regolamentati eh tredici milioni di presenze turistiche fantasma eh sono il trenta per cento di quelle ufficiali quindi sono anche il trenta per cento della tassa di soggiorno che finisce eh al comune che appunto che è sottratto alle no al comune a fronte invece dell'aumento dei costi di gestione dei servizi pubblici locali quindi questo è un tema molto grande cioè ovviamente appunto una questione sociale ed economica anche c'è l'impatto insomma a cui accennavo prima ovvero no la la perdita di residenzialità di residenti del centro storico che sono diminuiti molto negli ultimi anni e però io volevo insistere un po' sul tema invece del commercio che secondo me è molto interessante perché eh sarà secondo me un po' il tema eh il tema del commercio è quello degli spazi vuoti saranno un po' i temi secondo me centrali oggi eh come ogni anno eh la la stampa riporta eh la notizia secondo cui i saldi sarebbero andando male in centro per colpa della ZDL e che è sempre un po' un mantra no? In realtà eh secondo ConfCommercio tra il duemiladodici e il duemilaventi in Italia sono insomma scomparsi settantasette mila negozi eh sono diminuiti del quindici per cento ehm quindi se le città fino a prima della pandemia erano caratterizzate da meno commercio e più turismo adesso abbiamo meno di entrambe le cose meno commercio e meno turismo e quindi abbiamo un aumento di spazi vuoti eh commerciali al momento io ho guardato su immobiliare.it nei regioni più centrali di Roma abbiamo quattro circa quattrocentocinquanta negozi medio-grandi quindi eh di metratura superiore ai duecentocinquanta metri quadri eh abbiamo quattrocentocinquanta negozi vuoti in affitto o in vendita. Eh il problema del vuoto è destinato ad aumentare perché insomma sappiamo che l'e-commerce è cresciuto eh i comparti del prodotto o non quelle dei servizi ma del prodotto sono cresciuti del quarantacinque per cento nel duemilaventi eh queste sono le vendite online e l'e-commerce eh sta cambiando il commercio eh si parla adesso no di questo criterio di omnicanalità per cui eh come dire i negozi eh fisici saranno sempre più integrati con le le diciamo i canali online di commercio online eh c'è addirittura insomma chi mh preannuncia uno scenario in cui saranno i negozi fisici ad essere funzionali all'offerta online e non viceversa. Quindi il ruolo del negozio e del commercio cambia radicalmente perché eh questo come dire se prima caratterizzava soltanto il settore del lusso dove appunto il negozio fisico è un investimento in comunicazione, un investimento mediatico per il marchio. Questo oggi sembra riguardare sempre più eh il commercio in generale nei centri storici anche perché gli affitti sono molto alti. Parliamo di circa diecimila euro eh al metro quadro nelle zone di via dei condotti, via del corso e via dicendo. Per cui soltanto questi grandi marchi, catene e via dicendo possono permettersi questi affitti. Allora questo eh problema della desertificazione anche commerciale eh come si risolve? Evidentemente non si può risolvere ancora una volta con aumenti di cubatura ehm per no progetti di rigenerazione urbana eccetera eh purtroppo insomma eh ci sono no a volte dei segnali per cui io leggevo l'altro giorno no rispetto alla la legge sulla rigenerazione urbana della regione Lombardia che è stata poi modificata però che prevedeva l'aumento di cubatura addirittura del trentacinque per cento per edifici vuoti abbandonati da non ricordo quanti anni. Il che però evidentemente si sarebbe trasformato a un incentivo a lasciare vuoti gli edifici per i proprietari che così avrebbero potuto ottenere un aumento di cubatura. Eh è evidente che appunto bisogna invece puntare a trovare nuove funzioni eh per questi spazi vuoti e non soltanto quelli commerciali e non soltanto quelli privati a partire evidentemente da un punto invece della necessità di riabitare eh il centro storico e eh io insomma ho avuto il piacere di intervistare sia eh Alberto eh Marchioni di Confcommercio di cui ho letto eh le osservazioni inviate al test unificato insomma alla proposta di legge sulla rigenerazione urbana. Confcommercio ha inviato delle osservazioni secondo me abbastanza interessanti perché si parla proprio della necessità di una rigenerazione appunto sociale eh nell'interesse collettivo ehm e appunto è interessante che ci sia secondo me una certa consapevolezza della necessità di affrontare eh il problema del centro storico appunto in una visione complessiva quindi abitare commercio e insomma tutte le funzioni di avere questo questa visione ehm anche appunto da da per esempio da Confcommercio perché se non c'è in qualche modo una domanda interna come dire Sara credo che tu abbia qualche problema di connessione vuoi togliere la telecamera? Sei andata via per qualche istante siamo anche a dieci minuti se vuoi magari concludere. Levo la te. Ok sì infatti stavo concludendo insomma spero di non essere stata troppo frettolosa perché i temi sono abbastanza complessi però ecco secondo me questa crisi del commercio eh e anche invece però la consapevolezza che c'è da parte di chi si occupa di commercio della necessità di ehm invece di puntare su da una parte sulla regolamentazione degli affitti brevi turistici e dall'altra eh invece sulle politiche abitative eh e quindi per l'assegnazione di abitazioni anche a giovani coppi e via dicendo nei centri storici eh come dire questa no eh questo invito da parte anche di chi si occupa di commercio il che secondo me significa che insomma c'è un certo livello di di consapevolezza che forse ancora non riusciamo a trovare invece da parte eh delle classi dirigenti politiche eh insomma io mi auguro che questi siano anche oggetti oggetto no di proposte eh da parte dei candidati sindaco. Ecco infatti stiamo arrivando proprio alle proposte che faremo se scusa se ti interrompo ma il tempo stringe e avremo ancora da da esprida diciamo eh elencare un po' quelle che tirando un po' le fila quelle che sono le nostre proposte come carti in regola rispetto a tutte queste problematiche naturalmente partendo dal fatto che ci vuole una volontà politica a tutti i livelli non solo appunto comunale ma anche regionale anche statale. Io passo la parola a Giancarlo Storto che ha diciamo steso alcuni punti che abbiamo condiviso nel nostro gruppo di lavoro e un po' a conclusione anche con se vuole poi intervenire ancora Paolo sul discorso più suo propriamente. Bene allora eh cerco di rassumere sinteticamente alcune proposte che abbiamo discusso come diceva all'interno del gruppo di lavoro eh ma il presupposto è questo che eh certamente noi siamo convinti ehm che il il la città storica e non solo il centro storico abbiano bisogno di maggiore tutela. Queste tutele oggi eh sono parziali consentono deroghe consentono interventi che noi riteniamo non ammissibili ma eh e questo quindi perché eh siamo tutti convinti che riprendendo i principi base che sono stati anche qui oggi ricordati della carta di Cubio il centro storico va salvaguardato come come bene diffuso come bene che nel suo insieme rappresenta l'identità e la storia di una comunità ma eh siamo anche convinti che eh sarebbe una un obiettivo parziale ancorché assolutamente eh motivato e da raggiungere siamo convinti che la tutela non basta nel senso bisogna accanto alla tutela eh ipotizzare altri altre misure per far sì che la residenzialità eh abbia maggiore possibilità di eh sopravvivere e se possibile di estendersi essendo stato negli anni negli anni passati fortemente penalizzati quindi quindi una protezione sociale accanto a una maggiore tutela. Le proposte in in estrema sintesi mh per quanto riguarda la tutela come come è stato detto quindi eh la mia una sorta di sintesi degli interventi precedenti occorrerebbe revisionare le norme tecniche del piano regolatore cercando di eh eh correggerle laddove appunto eh si prevedono interventi quali quelli di eh eh ristrutturazione eh e demolizione e ricostruzione che non appartengono agli interventi di tutela eh gli interventi di tutela eh devono essere eh realizzati ma devono riguardare modalità che non oltrepassino quello del del eh del risanamento e del restauro eh perché se no si si crea un'altra cosa diventa il territorio il tessuto si trasforma si dà possibilità di di interventi che sono dissonanti rispetto al al tessuto persistente quindi questo è il il primo obiettivo eh accanto appunto a una maggiore come ricordava adesso Paola maggiore attenzione è quello che riguarda i cambi di resinezione d'uso per quello che riguarda sempre la tutela non c'è dubbio perché in regola l'ha fatto da tanto direi da troppo tempo quello di richiedere di richiedere alla regione un un passo in avanti nella direzione della 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 tutela e questo passo in avanti c'ha due e c'ha due caposaldi un da un lato rivedere l'articolo sei quello che prima richiamavo quello che consente l'ampliamento fino al venti per cento che deve essere deve essere cancellato o perlomeno deve essere come veniva ricordato con l'emendamento che ha eh illustrato la se ne riesce da pretoris deve essere subordinato a una volontà decisoria del comune cioè non può essere il singolo proprietario che nella città storica decide autonomamente eh se eh come demolire ricostruire prendendosi anche il premio di cubatura deve essere subordinato a un livello decisionale valutativo da parte da parte del comune l'altra l'altra questione è del tutto evidente è l'estensione anche alla a Roma del del della tutela paesaggistica ricordo qui che nel Lazio ci sono ben cinquecento quindici eh centri storici che sono tutelati dal piano paesaggistico e in questi cinquecento quindici centri storici non è come ricordava Daniele Giacovone annoverato il comune Roma si tratta di una follia che si commenta da solo ai fini invece della protezione sociale eh un primo punto è quello che veniva eh ricordato prima di me da Sara cioè non si può consentire un'espansione senza limite dell'attività ex alberghiere e qui va regolamentato va regolamentato sia dal punto di vista del della gestione di questi e quindi delle regole di del a cui assoggettare chi vuole intraprendere un'attività del genere che oggi invece è troppo libera sia nella nella quantità nel senso che ci si finisce per distoglie per eh diciamo cambiare snaturale proprio il tessuto sociale di parti importanti del del della città storica e del centro storico e quindi bisogna bisogna mettere dei freni bisogna mettere delle delle dei puntelli ricordo ad esempio che il comune di Milano eh ha da poco approvato una delibera al basso la quale è il comune che si fa garante con i proprietari per incentivare affitti più lungo anche a favore degli studenti a prezzi calmerati quindi si può fare ehm l'altro aspetto se ne occupano sempre di carte in regola quello che dico adesso non riguarda soltanto il centro la città storica ma riguarda un ambito più più vasto ma nella città storica se si riesce a introdurre ehm eh diciamo questi questi elementi diventa significativamente di 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 maggiore più alto valore ad esempio quello di promuovere le iniziative di autorecupero eh c'è una regge regionale eh che del novantotto successivamente modificata integrata che prevede che il 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 comune eh faccio un elenco di 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 beni eh privati e pubblici che poi in in qualità in condizioni di degrado che poi vengono affidati al 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 a forme associative e cooperative innanzitutto in maniera tale che possano essere rimessi in prissino eh diciamo eh defascando eh dai dai cani del costo di intervento. Ci sono poi altre misure devo dire che eh che sono misure che esistono al nostro ordinamento che nessuno eh ti la vuol tirare fuori perché perché evidentemente eh c'è necessità di un di un coraggio politico e di una volontà di attenzione di che guardi alla alla con attenzione a ai bisogni degli stati meno 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 favoriti e che quindi e quindi vengono rifatti da quelle che sono le dinamiche del mercato del centro storico che brevemente illustro una è quella del del eh di la possibilità che è prevista da una legge del settantotto figuriamoci che è vigente a tutti gli effetti quella di subordinare eh l'attività edilizia quando ha una qualche consistenza ed è una norma proprio nata per i centri storici quella che adesso racconto alla alla possibilità di stipulare una convenzione con i proprietari in base alla quale eh impegnare i proprietari stessi l'operatore stesso ad affittare una quota di alloggi a canoni concordati con il comune eh dando la precedenza ai ai agli affittuari che che risiedevano prima del dell'intervento cosa molto importante perché sappiamo che l'espulsione è un dato ormai ormai storico così come invece un'altra norma più recente prevede che negli interventi eh questo vale su tutto il territorio ma anche quindi negli interventi ehm interventi diciamo sul sul tessuto esistente sia sia valore sia data la possibilità sia ceduto eh aree o immobili da destinare ad erizio sociale come standard aggiuntivo questa è una norma che ormai ha eh quattordici anni e che dovrebbe essere inclusa nelle norme tecniche del piano regolatore eh con obiettivi evidenti di grande utilità perché significherebbe poter avere eh a disposizione aria o immobile da parte del comune quindi evitare l'esproprio quindi favorire questa mixité di cui si parla sempre senza trovare senza trovare mai eh spunti vedi per poterla attuare e da ultimo sempre come misura mi pare che c'è tutto questo ragionamento sui immobili pubblici l'abbiamo ripreso anche nella proposta di della Bianchi Bandinelli non è pensabile che ci siano ancora molti immobili pubblici faccio riferimento a a cose conoscete bene dal 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 dalle strutture dell'Atac a ospedali in indisuso e quant'altro ecco queste questi immobili che hanno una capacità di essere trasformati valorizzati in funzione delle delle esigenze di 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 residenzialità delle delle dei scelti eh meno favoriti ecco questo potrebbe essere un campo di azione molto importante che non viene non viene assolutamente percorso mi limito a dire che l'un l'ultimo interventi che eh sono stati fatti per eh riportare nel centro storico eh l'inizia pubblica risalgono addirittura alla all'epoca dell'assessore Calzolari quindi siamo eh qualcosa come più di di venticinque anni fa ecco sono sono queste ipotesi che eh dicevo prima ammettono una chiara volontà politica ma credo che queste siano una discriminante vera tra chi voglia eh parlare eh in genere e in termini generici in termini diciamo di di scarso impegno e chi invece vuole realmente intervenire per aumentare la qualità nella nostra città grazie Giancarlo eh Paolo vuoi aggiungere qualcosa? Ah poco da aggiungere rispetto alle cose condivisibili che ha detto Giancarlo soprattutto l'ultimo punto eh mi stimola molto quello del reperimento degli spazi pubblici degli edifici pubblici il patrimonio pubblico dismesso sottutilizzato eh che sta un po' in tutta Roma e soprattutto nel centro storico ehm pensiamo un attimo come si potrebbero utilizzare a fini sociali questi spazi pubblici che oggi sono morti staccati dal corpo urbano urbanistico e sociale della città potrebbero essere utilizzati per eventi culturali per creare alternative culturali per dare eh lo spazio e la scena a a le tante risorse culturali che vengono fuori dai giovani che è la vera alternativa alla alla monovita che distrugge e all'alcolismo imperante gli spazi per il co-working ehm il dopo eh covid ehm ci ci consegna una città e delle funzioni completamente cambiate e e quindi questo tipo di operazione che porta come diceva Giancarlo anche al al ritorno eh di residenti nel centro storico semplicemente utilizzando questo questo patrimonio cosa ben diversa dai progetti di rigenerazione urbana che molte volte siccome hanno eh bisogno di un altissimo grado di remunerazione in realtà producono housing sociale e un mix che non sempre risponde ai bisogni dei quartieri quindi per concludere nessuno ha paura delle trasformazioni urbane anzi sono necessarie nessuno eh plaude a a a una città imbalsamata ma le trasformazioni debbano essere orientate verso finalità pubbliche e verso bisogni sociali ecco io mi mi sento di commiatarmi stasera da questa bella ehm riunione video riunione con questo auspicio perché credo che siano veramente eh il traguardo e l'orizzonte al cui dobbiamo guardare per andare avanti veramente in questa nostra città. Benissimo una bellissima conclusione voglio ancora siccome ho interrotto un po' bruscamente Sara volevo dargli ancora la parola se voleva aggiungere qualche cosa. Grazie Anna Maria no proprio al volo al volo magari giusto la parte un po' di proposte ma insomma è molto tecnica eh semplice anche questa sugli affitti brevi eh insomma sul modello delle dei dei regolamenti eh adottati diciamo ovunque nel mondo tranne che in Italia di solito appunto sarebbe no un un'ottima idea creare intanto un ufficio ad hoc per la gestione e la regolamentazione e il controllo degli affitti brevi con l'assunzione di personale perché insomma sappiamo che poi questo è anche no un tema è inutile eh approvare leggi se poi non si riescono a eh appunto se non c'è poi la parte del controllo ehm bisognerebbe rivedere questa norma nazionale che appunto fissa il limite eh tra uso occasionale attività occasionale imprenditoriale a quattro appartamenti e insomma all'estero di solito si fissa a un appartamento c'è la casa di residenza eh con un limite di massimo di notti di pernottamento per per anno insomma per struttura per cui si va dai novanta ai centoventi giorni tutto il resto invece è imprenditoriale eh e quindi soggetto a una diversa tassazione eh e bisognerebbe chiaramente insomma ehm appunto unificare c'è tutta una questione sui codici identificativi comunale regionale un unico codice identificativo eh che sia visibile nell'annuncio quindi ci vuole un accordo no con le piattaforme digitali che appunto pubblicizzano eh gli affitti brevi e insomma eh anche io auspicherei no poi in centro nel centro storico comunque il blocco la revoca anche delle licenze per le attività imprenditoriali perché sono davvero troppe e insomma chiudo dicendo che insomma per onestà ecco queste proposte io le ho viste insomma nel programma no online di calenda eh e appunto come dicevo prima sarebbe auspicabile invece che ci fosse anche da parte di altri questa attenzione è un tema che non è secondario grazie grazie a te Sara io potrei tirare un po' le fila di tutto quello che abbiamo detto eh aggiungendo qualcosa allora intanto prenderei lo spunto di Maurizio Geusa che ci invita a riflettere sul fatto che della difficoltà sia da un punto di vista normativo di individuare esattamente cosa si intende per centro storico e città storica e che cosa vogliamo tutelare io credo che anche come carta in regola dobbiamo fare un approfondimento perché effettivamente eh eh con scrivere solo dei perimetri o rifiutti delle categorie si rischia di lasciare fuori delle parti e dei pezzi importanti della città che andrebbero tutelati penso solo al a tutto il discorso che avevamo fatto anche col piano casa quando Aleman aveva escluso pochissimi territori dall'applicazione cioè pochissimi eh quartieri e parti di quartieri dal dal eh dall'applicazione del piano casa lasciando fuori ad esempio la garbatella c'è da dire che noi ci siamo concentrati sui villini nel nostro emendamento perché in realtà è molto difficile per eh un imprenditore diciamo eh poter abbattere ricostruire del del dei condomini con molti eh abitanti e condomini eccetera in genere l'attenzione eh della speculazione edilizia si concentra proprio sui villini eh perché sono in genere mono bi proprietari oppure sono possono essere conventi o scuole che appunto vengono venduti e quindi diciamo è più difficile però io credo che lo stimolo di Maurizio ad approfondire questi aspetti sia necessario vorrei dire che un po' in tutti gli interventi c'è stato eh diciamo abbiamo preso atto della della volontà politica che la condizio sine qua non perché si possa tutelare la città storica perché in realtà di strumenti di tutela che siano diciamo più linee guida o che siano in vere e proprie prescrizioni che abbiamo visto non ci sono cioè pareri vincolanti però in ogni caso eh manca proprio la volontà politica di farsi carico della tutela sia da un punto di vista eh urbanistico del del paesaggio sia dal punto di vista delle destinazioni eccetera noi abbiamo incontrato in un'occasione di un incontro diciamo con una forza politica sia l'assessore valeriani della regione sia l'assessore montuori eh dell'urbanistica del comune entra e abbiamo cercato di fare dire entrambi che si esprimessero l'uno sull'articolo sei appunto degli interventi di aumento di cubatura e l'altro sul sul fatto che il comune non ha mai chiesto a detta della regione che il ptpr comprendesse anche il centro storico tutti e due hanno fatto grandi proclami abbiamo anche i video per cui possiamo dirlo eh di disponibilità l'uno a modificare la legge di rigenerazione urbana l'altro a chiedere eh che nel ptpr sia inglobato anche appunto questa parte eh di città storica che che è esclusa e e in realtà poi non è successo nulla quindi noi torneremo alla carica volevo dire comunque che sul sito potrete trovare tutti i materiali che abbiamo eh sentito citato in questi incontri a partire anche da un articolo che dice appunto questo famoso articolo come tutela gli altri centri storici e come esclude il centro storico di Roma in modo che uno possa leggere proprio tutte le cose che sono prescritte per gli altri centri storici del Lazio non so se qualcuno vuole ancora dire una battuta se no saluterei i nostri eh spettatori ringrazio allora Maurizio Geusa nostro vicepresidente ringrazio Rita Paris ringrazio Giancarlo Torto Paolo Gilsomini Sara Gainsford ringrazio anche eh Daniele Iacovone che non è più in Italia e anche ehm Visenta Iannicelli che purtroppo il suo eh intervento non è andato in diretta però chi lo vede indifferita potrà trovarlo online sulla nostra pagina dedicata all'incontro grazie mille e buona serata a tutti buonasera